Un saluto a tutti da SnowKills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash Oggi siamo con l'account di Pazzo23 e siamo qui per rollare 25.000 gemme Oggi è uscito anche il nuovo eroe, quindi ragazzi speriamo di trovarlo Anche perché Pazzo23 sta cercando Anubis, Pistolera e Michael Ma anche Ronin e Valentina Eroi molto importanti e direi di apprestarci appunto a rollare queste gemme E speriamo ragazzi, dato che a me va veramente di merda da un po' di tempo Di trovare questa volta qualcosa di figo, almeno su questo account Allora, vediamo un po' ragazzi, 150 e iniziamo subito con un bel nulla cosmico 450, niente da fare Ragazzi hanno abbassato il drop Una gelatina, una gelatina, niente da fare Predone, cecchino, tanti verdi, quindi ci aspettiamo l'uscita di quantità industriali di Sirena invece C'è un bel Ronin, dai Dacci un bel Ronin in questo triplone, ma quando mai? Quando mai? Cecchino Panda, Linfa, dai, sciamano, triplone Niente, tutti i blu ragazzi, non ne vuol sapere niente Linfa E continuiamo, niente, cosa vogliamo fare? Ci aspettiamo con queste 20k, due predoni, un altro 450 Attenzione, Candy Cane, non ci serve, andiamo con un altro 450 Niente ragazzi, attenzione, Redi Vivo, Redi Vivo forse ce l'ha già Forse ce l'ha già, comunque li andiamo a vedere alla fine Redi Vivo comunque non me lo ha chiesto Quindi probabilmente ce l'ha già Triplone, niente da fare Niente da fare Il campione gelatinoso Un altro campione, ci siamo giocati Due drop leggendari Altro campione gelatinoso inutile Gigante delle colline Tutti questi verdi a quanto pare Sono stati compensati da una marea di gelatine Col 4,50 Niente ragazzi, niente Un altro 4,50 Incredibile Finora Pochi eroi E soprattutto niente che ci serve Drakax e gli mancava, ma tra tutti quelli che gli mancavano era l'unico che mi aveva scritto Mi manca anche, ma non mi serve XD Quindi XD non vuol dire XD in questo caso, ma per D In questo caso Vediamo un po', vediamo un po' Campione gelatinoso E bisogna aumentare la capacità degli slot E continuiamo ragazzi con le ultime 13.300 gem Speriamo di essere un po' fortunati Perché veramente Invece niente Un triplo colore Dai, ti prego E caccia Ronin Caccia il nuovo eroe Che è abbastanza impronunciabile Cioè il nome ragazzi È impronunciabile il nome di questo nuovo eroe E caccia Match Tessa ragazzi Match Tessa Dai Nel 150 Invece Barba Bianca Ti serviva Barba Bianca Ma No Non ti serviva Barba Bianca Era figo Peccato ragazzi Peccato Dai 10k Ma attenzione Godzilla Inutinissimo di neve Godzilla di neve Dai Per favore Fammi questo regalo Dai Niente ragazzi Niente Il nuovo eroe Non vuole uscire Match Tessa Dai Ti prego Triplone Un altro triplone Attenzione Rekno Ragazzi Rekno Cioè Rekno Non ce l'ha scritto Ma io spero che non lo abbia già Dai Non ditemelo Ce l'ha già Vedete Escono i fottuti doppioni Maledizione Mica esce a me Rekno No Doppione Un bel doppione Per carità Ma pur sempre Un doppione Pur sempre Un doppione Che comunque Visti i tempi di aggiornamento Anche il doppione Fa comodo Fa comodo sicuramente Però mancano 6000 gemme E l'eroe nuovo Non c'è Anzi no Uno c'è Stato Attenzione La succube Ci illude Ci illude Un po' di violetti Qui sul finale Ma 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 Niente che ci interessa Particolarmente Peccato per Rekno Ultimissime ragazzi Dai Ce la dobbiamo fare Dai Ti prego Anche perché questo è stato il primo Rekno Che droppo Personalmente Quindi Dai Vediamo Vediamo Ultimissime gemme Devi uscire adesso Mi devi stupire 2000 Triplone Attenzione No Ragazzi No 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 Tristezza Massima Massima Tristezza Massima Massima Sfiga Perché Veramente Un bel Anubis Pistolera Michael Mi sarebbe piaciuto Troppo Parli di Ma non ci illudiamo Perché con questo triplone escono Invece no Invece no Invece no Solo mille gems Gli le lasciamo Qualcuna E vabbè Sono anche finiti Quindi Ci possiamo Fermare E qui Mi dispiace veramente Per non aver trovato Ciò che gli serviva Però Un altro doppione Di Rekno Che schifo non fa Un altro doppione A quanto pare Sicuramente Di re di vivo Sì Il secondo Candy King Devo dire C'è stato anche Dracax Barba Bianca Cioè Gli eroi sono usciti E' uscita anche Sirena Il doppio roll Anche Godzilla Di Neve Cioè Leggendari sono usciti Ma purtroppo Non abbiamo droppato I leggendari Che servono a noi Che ormai ragazzi Sono sempre di più Questi eroi E ci vuole sempre più Più culo A beccare Proprio Quello che ti serve Non è davvero facile Quindi Ritiriamo Un po' Di premi Qui di Ingaggia E Vinci I Tomi Le Essenze E basta E poi anche Qui allo spendi E Vinci Ci andiamo a ritirare Qualche premio Un bel po' Anche tre carte nel magazzino Ma degli eroi Che mi ha chiesto Nessuno Può uscire Da queste carte Quindi è inutile aprirle Aspettiamo Tempi migliori Dove magari ci sono Eroi più utili Che possono essere droppati Da quelle carte E quindi direi Che per questo video È tutto Ringrazio Pazzo23 Per avermelo fattelo fare Voi per la visione Lasciate un bel like Un commento E ci vediamo come sempre Nel prossimo video E qui Andui Aspettiamo 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 Aspettiamo